Da bravi italiani volevamo imparare qualcosa di più sulla cultura giapponese. Questo è il teatro del Kabuki. Ecco, questa è la fila. Ovviamente non l'abbiamo prenotato. Direi che lo guardiamo solo da fuori. Bellissimo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.